Non ci vuole davvero niente per ribaltare una situazione Arriva Figo, Maradona Ci prova con un pallone profondo Può andare, riesce Milinkovic, Savic Ahiai, stanno correndo rischi davvero inutili Traversone di Milinkovic, Savic Errore qui, pallone sprecato Raspadori Scamacca Scamacca, bella parata di Ter Stegen Gravenberg Prova ad andare, cerca il tiro La palla supera la linea di porta Una rete che si è costruito tutto da solo Che iniziativa, che senso del gol Non l'ha passata nessuno e a quanto pare una volta tanto ha fatto bene a giocare da solo Qui merita tutti gli applausi Si ricomincia dall'1-0 Dopo questo gol i prossimi minuti saranno fondamentali per capire che direzione prenderà la gara Bisogna rimanere sul pezzo e non far ripartire subito gli avversari Scamacca Ha tentato in tutti i modi di raggiungere il pallone ma non è riuscito ad approfittare dell'occasione E questo è un passaggio quanto meno discutibile Se ne va Ha spazio E il portiere dice di no Spinazzola Può liberare il tiro Occhio alla compi... Bella parata di Ter Stegen Che grande parata Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui Intervento pregevole One minute at a time Riceve il passaggio Supera il diretto avversario Spinazzola Bella apertura Ci mette una pezza Pronto il tiro Tra la manete Tutto da rifare Una reazione incredibile Gli ha portati subito al pareggio Questo vuol dire essere concentrati e convinti dei propri mezzi Il gol subito non ha minimamente scalpito la loro fiducia E sono andati immediatamente a pareggiare Tonali Spinazzola Vede lo scatto e cerca la profondità Se ne va Può concludere E il ballone finisce la rete Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori Bravi Niente di più facile È stato invitato al banchetto e non ha rifiutato Ha eseguito un movimento da attaccante di razza Ma il passaggio non era da meno Tutta l'azione è stata da manuale del calcio La gioca sulla destra Figo Figo E sì Trova la rete Sono passati pochi minuti per imprenderli Pareggio immediato È come se il gol subito li avesse svegliati Fabio Gli avversari hanno abbassato la guardia e loro hanno risposto con vehemenza dopo pochi minuti Schiaccia il piede sull'acceleratore Sceglie di andare per via verticali Batistuta Batistuta Passaggio splenso Prova il tiro La mette in rete E adesso possono tornare a controllare il match Davvero troppo solo Troppo libero Troppo tempo Cosa ne pensi? Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete Giallo dunque per il fallo commesso pochi istanti fa Decisione abbastanza inevitabile dato l'intervento È un grande riflesso qui Salva la sua porta Una parata eccezionale Ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano Forse nemmeno i suoi compagni Cerca aiuto nella zona laterale E sarà rimessa con le mani Rimessa malcalibrata E palla regalata agli avversari Beh direi che adesso è il recupero del recupero Sensi E ora deve concludere Chance per tirare Palla in fondo alla rete Hanno trovato il pareggio quando tutto sembrava perduto E nonostante la pressione della difesa non ha Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro È stata una partita ricca di gol Nessuno è riuscito a prevalere Scamacca Si va a prendere meritatamente il pallone Grande tripletta Eccoci qua Luca Allora qual è la tua opinione sulla gara? In alcuni momenti è sembrato che potessero perderla In altri forse meritavano qualcosina in più Direi però che il pareggio è il risultato di... L'ho fa il leao Palla dentro Ci mette Palo Autogol Davvero sfortunato E qui è anche sfortuna Può succedere eh Però un regalo così non andrebbe fatto È un mix di circostanze sfavorivoli in quest'autogol La partita... Tiro di Pessina Che classe! Ottimo salvataggio! Qui bisogna lodare l'estremo difensore Non si è fatto superare Un fallo Vediamo se può capitalizzare Passaggio splendido Una chance Cristiano Ronaldo Raspadori Raspadori Opportunità di ripartire Pugba prova a salire sulla fascia sinistra Prova a darla profonda nello spazio Palla al centro Marco Verratti C'è ancora un po' di tempo prima dell'intervallo Possono ancora trovare il pareggio Riceve in ottima posizione Pessina Sceglie di andare per vie verticali Guadagna metri Può perdere la porta da lì C'è Tiro Ha segnato E raggiungono il pareggio Si ricomincia da capo Una rete che si è costruito Tutto da solo Che iniziativa Che senso del gol Qui è stato bravissimo Una performance da Goliador La palla sembrava incollata ai suoi piedi Non riuscivano a levargliela Lewandowski Un gol capolavoro C'erano troppi giocatori sulla traiettoria L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi Non poteva arrivarci Fabio Parata del portiere Sembrava aver sorpreso il portiere Ma lui ha risposto con un intervento d'applausi Buona la sua progressione Palla al piede Se ne va Buona occasione per Bernardeschi Si avvicina la Bernardeschi Palla in fondo La rete Riescono quindi a pareggiare Tutto da decidere Impressionante Un gol d'accademia Da mostrare ai ragazzi Delle giovanili Azione personale straordinaria Fabio Io lo sai Non voglio essere di parte Ma visto quello che ha fatto Speravo proprio la mettesse dentro Se l'è meritato Hanno ritrovato la parità Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro Ecco lo spettacolo che ti aspetti Botta e risposta Colpo su colpo Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo E freddezza sotto porto C'è il colpo di testa E vannete Non so cosa si siano detti nell'intervallo Ma sono usciti dagli spogliatoi con il piglio giusto Hanno ripreso il controllo della partita E la firma non poteva essere che sua Grande colpo di testa Rapido, preciso Questo è un colpo di testa da manuale La coordinazione perfetta E l'impatto con il pallone preciso Niente da fare per il portiere Adesso conducono Anche se solo con un gol di scarto Piero di spine a sola Va su rimbalzo Ha un'altra chance Spazza via senza fronzoli Palla intercettata Bernardeschi Raspadori Pallone interessante in verticale E passa Prova il cross Ecco il tiro E il pallone finisce in rete Che partita pazzesca Di nuovo pari nel giro di pochi minuti Questo è il modo giusto per rientrare in partita Non hanno perso la speranza E si sono subito riorganizzati per andarla a pareggiare E figurarsi se sbagliava un gol del genere Facile, facile Il portiere ha tutte le ragioni per lamentarsi con i compagni Troppo, troppo spazio concesso Non possono permettergli di arrivare libero in quella posizione Nuovamente in parità Non mollano mai Scamacca Supera la linea Gol Partita vivissima Che ora ha cambiato dominatori Bravi Belli gol Frutto di un ottimo contrattacco Ci hanno sicuramente lavorato in allenamento La transizione tra momento difensivo e offensivo È stata veramente molto fluida L'atteggiamento è giusto Fabio Se continuano così possono tornare in partita A questo punto sarebbe inutile essere prudenti Devono spingere Sono d'accordo con te Colpisce il pallone Conclusione sul fondo Non si scherza con questo giocatore Ha sfondato centralmente Doveva solo essere più convinto nella conclusione Tutto il peso del corpo e gli sottrae il controllo del pallone Vede lo scatto e cerca la profondità Cristiano Biraghi Spinazzola Spinazzola In fuori gioco Perci di perdere la concentrazione così Marco Verratti Intercetta il passaggio Pericolo Bella apertura La metzata Grande balza Una balza Con alzata Con ali Qui può partire il contropiede Rovina la festa agli avversari Intercettando il pallone Vestremo il difensore La caccia lunga Eccolo il triplice fischio Il fischio che determina la fine della gara La loro scalata verso il sogno si è conclusa nel migliore dei modi Promozione ottenuta in grande stile Luca quali sono le tue impressioni su questa gara? Una partita incredibile, una prestazione da incorniciare nel momento clou della competizione. Raggiungere un traguardo del genere in questa maniera vuol dire avere qualità, coraggio e anche un pizzico di giusta inconscienza, Fabio. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. Quindi la serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi infatti sono arrivati in massa. Che stadio. Pochi impianti al mondo possono vantare una storia tanto illustre. Gara iniziata. Siamo già... Schavacca! Si esprime in un buon intervento. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. E ora vediamo se riusciranno ad approfittare di questo corner. Pericolo sventato. Adesso possono... Può provare! Cerca la fondo. Palla al piede. Sceglie di andare per via verticali. Prova il lancio in profondità ma calibra male. Ambrovic! E c'è il gol! Gli è bastato un attimo per impadronirsi della partita. Ha aperto le marcature con una rete importante. L'hanno cercata e voluta fortemente. Ma c'è ancora tanto da giocare. Devono essere bravi ora ad amministrare il vantaggio. E' andato fino in fondo ed è stato freddissimo sottoporta. Niente da fare per l'estremo difensore. Poteva solo... Sceglie di olo! Perfetta la parata. Possesso. Ora possono riprovarci. Prova a tirare! Palla in fondo alla rete! Un 1-2 veramente da K.O. Marco Verratti. Scamacca. Cerca il tiro della media distanza. Infuzza il quartiere. Rete pregevole. Manco avesse disegnato la traiettoria a mano. Semplicemente fantastico. Certo, con i palloni di oggi, fare dei tiri carichi di effetto è più facile. Marco Verratti. Scamacca. Ha spazio per giocare gol. Occasione da rete. Prova nella rete. Sono di nuovo in parità. Passo agile e inarrestabile. Tempismo perfetto e conclusione vincente. Magnifico. Azione personale straordinaria Fabio. Io lo sai, non voglio essere di parte, ma visto quello che ha fatto, speravo proprio la mettesse dentro. Ballone interessante, in verticale. Si ferma qui la manovra. Se ne va. Eeeh, questi sono i duelli che ci fanno amare il calcio. Botta e risposta tra bella iniziativa offensiva. E' la giusta contromisura. Scamacca. Guadagnametri. Scamacca. Polchiero battuto. Roto. Partita vivissima che ora ha cambiato dominatori. Bravi. Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa. Che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Una tripletta voluta cercata ottenuta. Questo è un giocatore immarcabile. Non riescono a fermarlo in nessun modo. Che senso dal gol. Grazie. Grazie a tutti.